Ancora alle arti marziali, Wing Chun Leung Tin, un sistema di difesa che affonda le radici nelle arti marziali e nella loro filosofia, ma da non confondere, dicono i praticanti, col Kung Fu. Caserta è uno dei capoluoghi di questa disciplina. Il professor Michele Stellato è tra i pionieri. C'è una scuola diretta dal maestro Cesare Maione che annovera anche Filippo Cuciuffo, responsabile nazionale federale. Presso la palestra ITIS c'è stato un seminario che vediamo tenuto da Michele Stellato che è anche capo istruttore della Repubblica di Malta con il coordinatore per l'Agro Aversano Pietro D'Alessio. E' dunque una nuova disciplina che proveremo a conoscere meglio.